Salve a tutti ragazzi, sono Mattex e bentornati in questo nuovo episodio della nostra Cagliaria di Torre con il Venezia, qui su Via22. Oggi secondo episodio della terza stagione, andiamo a giocarci due partite di Serie A, Elas Verona e Cagliari. E insieme facciamo il calciomercato ovviamente, per chi si fosse perso lo scorso episodio recuperatevelo, adesso, forza, 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 poi venite in questo episodio. Per chi invece magari si fosse perso giusto un pezzo, Audero è il nuovo portiere del nostro Venezia, un big ritorno nel Venezia, me l'ero perso nella scorsa live che appunto fosse stato già al Venezia, ancora più intrigante secondo me l'acquisto di Audero. Però quest'oggi andiamo a fare un pochino più di calciomercato perché ci sono un po' di giocatori interessanti da tenere d'occhio. Uno di questi è il nostro, Albert Calvo, Albert Calvo. Prima, prima però, no prenderei Albert Calvo, ragazzi, Albert Calvo. Ti hanno lasciato per live in stato di Ebertnav. Andiamo a prendere Calvo, andiamo a prendere Calvo. Che tanto Calvo non è, ma tant'è. Turnover, te lo fai? Cruciale, figurati. Magari importante? Cruciale. Va benissimo. Tanto penso giocheranno lui e Pululu come titolari. Cinque anni, va bene. Chiedimi tu lo stipendio? No, no, chiedo. Stipendio suggerito 28.000. Io farei 28.000 giusti, più un bonus di 120. Mi sembra un'offerta equa. Mi sembra un'offerta equa, signori, signori. Albert Calvo è il nuovo attaccante del nostro Venezia. Tra l'altro prenderà con grande probabilità la numero 9 sulle spalle. Secondo me è molto interessante in realtà perché, appunto, sì, può esserci il discorso del forse un po' troppo forte dagli svincolati. Però dagli svincolati secondo me ci può anche stare un buon giovane che non ha trovato spazio in altre squadre e quindi viene alla corte del Venezia. Oltretutto è già un anno che è svincolato, quindi nessuno l'ha voluto e siamo andati noi a prendercelo. Un altro giocatore tra gli svincolati che mi piacerebbe provare a prendere è un certo ex anche della Serie A, ma soprattutto ex Paris ed ex Barcellona. Non sto parlando di un giocatore mega iperforte, però un giocatore che secondo me può dare una mano alla causa, soprattutto questione europea. Sto parlando di Rafinha, 30 anni, acquisto abbastanza esotico secondo me per questo Venezia, però contiamo che il Venezia in realtà ha comprato Nani. Quindi questo può essere sicuramente un colpo più o meno alla Nani. Secondo me il centrocampo può far bene, non so se sarà il titolare fisso. Comunque vediamo l'idea di fare un centrocampo titolare con Raskin e Rafinha, che si alterneranno con Penso, Busio e Blanco. Adesso vediamo un po' come incastrare bene il tutto. Io vado a tartare. Signori, Rafinha. Potremmo anche dare un'occhiata a Nani se c'è. Importante, va bene? Cruciale, va bene. E poi vendiamo ragazzi. Poi tocca vendere, perché adesso facciamo qualche acquisto in più, però tocca vendere 23.000. Perfetto? Perfetto? Perfettissimo! Si chiude la trattativa. E Rafinha dunque un nuovo giocatore del Venezia, con la maglia 19 che ci può anche stare. Mi piace, mi piace. Sono contento così. Benvenuto Rafinha, benvenuto Calvo. La nostra squadra diventa un po' più sudamericana rispetto a prima, però siccome può andare benissimo così. Andiamo a sistemarli in formazione e andiamo avanti con le nostre giornate. Offerta per Biraschi, quella che aspettavo da no. Possiamo chiedere fino a 4 ore e 2. Andiamo a chiedergli lì. Chiediamo 4 per evitare troppe cose. Chiediamone 4. Affare fatto! Affare fatto Borussia Mönchengladbach che accetta 4 milioni per Biraschi. Ottimo così, ottimo così. Grazie mister, credo che andare in prestito mi farà bene. Siamo d'accordo, vediamo. Tesman potrebbe farsi un giretto in prestito. Biraschi venduto. Big notizia di quest'oggi. Rifiutato a prestito di Hilves, te pareva. Offerte per Jacopone Dezzi. 1,750. Io ragazzi, non andrei a indugiare oltre. Accetterei l'offerta anche perché comunque possiamo chiedere fino al massimo di 1,650. Poi la cosa può variare, no? Però loro ci offrono già 1,750. Insomma può essere molto molto buono. Dezzi, grazie per il tuo lavoro svolto nel nostro Venezia. Mi ha impressionato, mi ha impressionato. Ha fatto molto bene, però è arrivata l'ora di cederlo. Verde per il prestito di Tesman. Dal Sassuolo per un anno. Io accetto diretto. Diretto. Insomma è un giretto in prestito. Tesman se lo può fare, gli può fare bene. Cresce anche magari solo di 1-2 punti overall, però sicuramente giocherà un po' di più rispetto magari a questo Venezia qua. Dezzi venduto, perfetto, perfetto. Quindi due giocatori, appunto, fuori rosa, ceduti, molto bene. Tesman che va in prestito, perfetto. Ragazzi il tempo è giunto. The time has come. Federico, Bernardeschi, lo andiamo a trattare. Sì, si può trattare. Proverei a trattarlo per il meno possibile. Quindi scambio giocatori. C'è giù qualche giocatore di cui possiamo anche farne a meno. Ramadan. Ma piarti in Ramadan così? Offerta per il cartellino. 18 milioni. 18,5 più Ramadan. 18,8? 18? 18,6? 18,6? Fammo 18,5 così siamo tutti felici, siamo più precisi. Mi sembra una offerta equa di... Ragazzi, 18,5 e Bernardeschi potrebbe venire a Venezia. Allora. Allora. Per me. Come sapete su questo canale non facciamo preferenze, ma... Ma con Bernardeschi potremmo... Eh, ragazzi. Bernardeschi va preso. Bernardeschi lo voglio da... Da quando lo avevamo al Parma. Ma il Parma non ha fatto benissimo. L'avrei voluto poi riprendere al Genoa. Ma noi siamo riusciti. Quindi è tempo di far tornare Federico Bernardeschi alla corte di Mr. Matex. Andiamo a trattarlo. Bene, vengo da YouTube e ti seguo da Gregor, mi fa piacere. Molto bene. Io ho tutto bene, tutto bene, dai. Importante? Importante. Ma Federico... Federico, quanto sei amabile, Federico? 5 anni. 3 anni. 4 anni, siamo tutti contenti. Ignora Clausola, va benissimo. Allora... Qui magari un po' di meno se lo può prendere al Venezia, che dite? 65 e... 180? Mi sembra un'offerta equa. Mi sembra un'offerta equa. Molto bene. Molto bene. Arriva Kiko Bernardeschi. È un nuovo giocatore del nostro Venezia. Andiamo subito a cambiare il numero di maglia. Tra l'altro, boh, tutti impazziti con la lucidità. Ragazzi, ragazzi, io, nonostante lui abbia la 20, attualmente, io sono più legato alla 33. Mi andrei di 33 per Federico. Alla prima c'è il derby. Dunque, io preparo la formazione. Ci vediamo in partita con le grafiche, al solito. Delle formazioni benissimo per Bernardeschi. Preparo, tra l'altro, con il debutto di un po' di giocatori. Vediamo se Bernardeschi usarà come esterno o come trequartista. Ci vediamo in partita. Per la prima di Serie A, il Verona schierà Mignolet in porta. Vidovic, Magnani e Kumbulla. I tre di difesa. Centro campo. Lina a quattro con Illic. Paslak, Douglas, Luis e Nkudu. Davanti. Loren Hernandez. È l'unica punta centrale. Barak. Attenzione al Verona perché nelle scorse stagioni spesso e volentieri ha punito il Venezia. Venezia che oggi torna in campo quasi in formato Europa. Budget un pochettino più alto fornito dalla dirigenza al Venezia per costruire una squadra in cerca di un'equalificazione europea più sicura dello scorso anno. Audero, tra i pali, debutta da titolare quest'oggi. Carboni, Bartlett e Davidoviz. I tre di difesa al centro campo. El Chalawi, Rafinha, Blanco e Mbuku sulla tre quarti. Federico Bernadeschi. E due d'attacco formato da Albert Calvo e Affimico Pululu. Comincia. È la Sverona Venezia. Buona partita. Rafinha per Calvo. Dall'altra parte c'è Pululu. Calvo l'ha visto. Il tocco sotto. Pululu. In semirovesciata. Comincia. Lui la stagione. L'aveva conclusa con la scarpa d'ora della Serie A. E torna al gol. 1-0. Buku. C'è Bernadeschi libero servito. Bernardeschi. Federico. Bernardeschi. 2-0. Calvo sotto. Per Bernadeschi. Centro a Cepululu. Bernadeschi l'ha visto. La finta. Bernadeschi. Calcio su Mignolet. E poi di nuovo Federico Bernardeschi. Qui forse un po' troppo egoista al primo tiro. Ma poi ha trovato il gol. Gol. Quest'oggi per Federico Bernadeschi. Al debutto. Con la maglia del Venezia. Arriviamo alla finta. Poi Mignolet. E poi ancora Federico Bernardeschi. 3-0. Vai al Ciarawi. Bravo il Ciarawi. Visto un po' il vinto da Calvo. Aspetta a servirlo. Un Q2 in pressione. Ancora il Ciarawi. Il tocco sotto. Penareschi si gira. Mancino. Alto. Barak. Loren. Vole a Udero. Crosso al centro. Cancellieri. La palla resta lì. Attenzione. Con i... Con le ginocchia Udero. Barak. Hernandez. Lago per Cancellieri. Crosso al centro. Barak. La palla resta lì. Udero. Blinda. Il pallone. Blinda al 3-0. Finisce qui. Verona contro Venezia. 3-0 del Venezia. Risultato siglato nei primi 20 minuti. Gran partita poi di controllo da parte del Venezia. Che con gli acquisti sembra migliorato molto. Ovviamente. È solo la prima partita. C'è anche la seconda in questo episodio. Quindi non ve la perdete. Ma è stato davvero un gran grande butto per Federico Bernadeschi. Che non è inquadrato in questo momento. Offerta per Ruskin. Dallo Sport in Lisbona. Ma ragazzi. Ruskin è uno degli intoccabili di questo Venezia. Passato da essere un acquisto per colmare un buco nella squadra. A essere un giocatore da panchina. A essere giocatore insostituibile. Ruskin resta. Senza dubbio. Tra l'altro adesso affrontiamo il Cagliari. Cagliari che nella scorsa stagione ha fatto fuoco e fiamme. Attenzione. Attenzione. Sorteggio UEFA Europa League, signori. Venezia. Siamo in Europa League. Siamo ai gironi, signori. Venezia, Monaco, Celtic e un'altra squadra. Dio Gardens. Diciamo che poteva andarci meglio. Diciamo che poteva andarci meglio. Però possiamo giocarcela. Vivo contro Marconi l'anno scorso. Oh no, esatto. Monaco di Federico Marconi. E il Venezia di Federico Beranadeschi. Quindi siamo a posto. Ma allora. Tostarello come girone. Tostarello però va bene. Fattibile. Tra l'altro abbiamo già raggiunto l'obiettivo. Raggiungi la fase a gironi. Così è. È tosto. Ciao Fede Marconi. Se ci segui da casa ti seguo sempre TVB. Ti vogliamo bene signor Federico. Benareschi attualmente miglior marcatore. Schiappelò. Schiappelò. Zaha all'Inter. Aia. Tra l'altro Salenitana. Adesso sarebbe in Europa lì. Fantastico. Ndao. Pronto al debutto. Ragazzi. Io farei direttamente la partita col Cagliari. E poi potrei quasi fermarmi. Però in realtà siccome di colpi di mercato non abbiamo praticamente più far nulla. Potremmo andare avanti. Quindi vediamo anche la partita con il Cagliari. Come va. Valutiamo la situazione. Se avete tempo. Guardatevi tutto il resto dell'episodio. E noi andiamo in partita. Preparo la formazione. Qualcosa cambierà. Qualcosa mente cambierà. L'abbiamo detto. Questa stagione sarà una stagione in cui dovremo alternare parecchi giocatori. Abbiamo tanti importanti. Tanti vogliono giocare. Qualcuno andrà alternato. Oggi vediamo chi scendere in campo contro il Cagliari. Audero confermatissimo tra i pali dopo l'ottima prestazione contro Lellas, Carboni, Bartra e Omomoidele in difesa. A centrocampo. Raskin, Blanco, Bucu e Daps. Sulla tre quarti. Federico Bernadeschi autore di una doppietta alla prima stagionale. Puluro e Calvo davanti. Non nel senso che Puluro e Calvo. Nel senso che sono tutte e due davanti. Dopo Raskin e Buzion. Adesso abbiamo Puluro e Calvo. Dall'altra parte è il Cagliari. Cagliari che in Champions League sono poi curioso di andare a vedere anche il girone. Cragno tra i pali del Cagliari. Valjukiewicz, Gagnon e Sisse. I tre difesa. Sformazione a spazzanza specchio. Balde Nandez, Vencedor e Ndao. Che debutta con il Cagliari. Raba sulla tre quarti. Due d'attacco invece. Formato da Eduard e il ciolito Simeone. Sorteggiati i gironi di Champions League ma anche quelli di Europa League. Venezia che si troverà con Monaco e Celtic tra le più difficili. Vediamo cosa succederà intanto. Buona partita. Blanco, c'è ancora un buco sulla faccia. Prala passa in uno nulla. Un buco, cross al centro. Pululu non arriva per la rovesciata. Ancora Federico Bernadeschi. Haps. Bernadeschi dietro. Blanco che ha il tiro da fuori. Ci prova col destro. Cragno. Andava largo, cross al centro. Chiude. Come vedele. Ma c'è Nandez. Vai Raskin. Ha costato lo Sporting Lisbono. Lui giurato fedeltà alla Venezia. Così come Busio. Haps può andare. Attenzione al centro c'è tanta gente. Blanco la palla per Bernadeschi. Da solo. Bernadeschi. Bucu. 1-0. Azione molto collettiva di questo Venezia. Così gira la squadra. Così funziona. 1-0. Keita salta Bucu. Cross al centro. Attenzione a Vencedor. Chiude Carboni. Con un fallo. Secondo l'arbitro. Ed è calcio di rigore. In modo di vedere l'intervento. Sta. Ha fatto un po' di saltino sul giocatore. Però va Audero. C'è. Audero c'è. E si resta solo 1-0. Sbaglia il rigore Eduard. O meglio. Lo para Audero. Cross al centro. Verso Eduard. 1-1. Doveva segnare Eduard in qualche modo. Ha trovato il gol. Con il colpo di testa. Audero non ci può fare nulla. Simeone. Per Rabà. Dietro Simeone. Calcia fuori. Bella azione del Cagliari. Vencedor. Cross al centro. Verso Santos di testa. No. 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 Non di nuovo. Vi prego. A parte che l'ha anche il replay. L'ha fatto vedere malissimo. Audero contro Eduard. Second time. E second time. Audero. Busio. Esposito. Pululu. Benareschi. A spazio. Benareschi. Poco al mancino. Federico. Bernardeschi. Che gol. Finisce qui. Venezia Cagliari. 2-1. Che partita. Spettacolare. Davvero molto, molto, molto combattuta. Due rigori parati da Audero. Una partita incredibile di Audero. Ci ha tenuto in galla. A galla fino alla fine. Fino a quando. Federico Benareschi. Ha deciso la partita. Con un gol. Clamoroso. Offerta interessante. Perché dal Fulham. Ci chiedono Cade. Cowell. Però lo terrei ragazzi. Cowell. Comunque a 19 anni. Sta crescendo bene. Ha fatto un gran bel torneo per campionato. E Santos. Secondo me. Può dare sicurezza. Ancora magari per quest'anno. E poco più. Quindi. Non lo so. Cioè io preferirei comunque. Tenere Cowell. Magari rispetto a Santos. Finirei comunque le ultime dieci ore di calcio mercato. Perché alla fine. Abbiamo praticamente finito le nostre cessioni. Offerta. Dal Wolverenton per Akimfiev. Che quasi quasi. Io ragazzi lo cederei. Stavolta lo andrei a cedere. Grazie per il servizio prestato al Venezia. Tratto un pochettino in realtà. Tratto un pochettino però. Ciao Akimfiev. Abbiamo 2.8. Ce li dai 2.8. Siamo disposti ad offrirne 2.8. Va benissimo. Va benissimo. Ferri avrei prestito. Io amo bambidele. Dele. Prestito un anno. Se ti fai un anno in prestito così secco va bene. Se no non la darei con riscatto sinceramente. Magari che comunque mi sta piacendo. Akimfiev è venduto. Bene. Offerta per esposita dal Newcastle. Dal Newcastle. Però non lo venderei ragazzi. Non lo venderei. Sarebbe carino vedere la coppia Raspadori Esposito. Sono d'accordo. Però in questo momento non potremmo neanche fare un big acquisto. Quindi vale il discorso che abbiamo fatto col Marsiglia. Terrei Esposito. Almeno questa stagione la farò crescere un pochettino di più. Venderlo magari alla prossima. E poi fare il big acquisto per la prossima stagione. Allora si può valutare. Prestito di un anno per Omolos. Accettiamo. Vediamo se se ne va. Mi sa che Omobagnale non va in prestito. Omobagnale è in prestito. L'ho occupata. L'ho occupata. Offerta per Carboni dallo Sporting. Lo Sporting ci sta seguendo per caso da casa. Ho una idea che in realtà un po' mi spiace darlo in prestito. Un po' mi spiace anche non farlo giocare. Quindi secondo me un pochettino gli fa bene. Gli fa bene. Secondo me. E soprattutto può essere interessante vederlo cresciuto. Offerta per il prestito di Busio. Un anno. Te lo fai un anno così a Muzzo. A parte che un anno se lo farbbe partire da gennaio penso. Perché non c'è tempo per accettare. Quindi va bene. Finisce qui il nostro calciomercato. Finisce qui il calciomercato. Akinfi è venduto. Resta Ilves. A questo punto. Hai le qualità giuste. Reso conto. Vari. Raikovic. Tra i palli della Samp. Difesa a 4. Con Augello. Collei. Schiavo. E a capo. Quando premi invio. De Keteler. Kamaraz. De Pauli. E Torsby. I 4 di centrocampo. 2 d'attacco. Nota da Mateta. E Gabbiadini. Interessante comunque la squadra della Samp. Mi pare di aver visto un Pepe in panchina. Bella squadra. Bei giocatori. Forse pecca un po' in difesa. Sappiamo già che quest'oggi ci darà filo da torcere. Nonostante sia penultimo in classifica. Deve sicuramente risorgere dai bassi fondi. Dall'altra parte. Un Venezia un po' rimaneggiato. Fa un po' di turnover. Pizzari. Tra i pali. Con la 17. Tra l'altro gli cambieremo sicuramente il numero. Schnegg. Bartra Lovato. In difesa. El Cialawi. Rafinha. Buzio. E Kawell. A centrocampo. Con Berendadeschi sulla tre quarti. E 2 d'attacco. Torna. Quello della scorsa stagione. Esposito e Pululu. Calvo parte dalla panchina. Così come anche Mbuku. Un grande inizio di campionato. Oggi la squadra un po' riposa. In vista anche del debutto in Europa League. Contro il Monaco. Comincia. Sampdoria e Venezia. Buona partita. Cerchiamo di portare a casa la vittoria. Anche perché abbiamo l'obiettivo di vincere almeno 10 partite fuori casa. Quindi attenzione. Esposito. Può allargare subito per El Cialawi. Si è presta col destro. Rajkovic. In calcio d'angolo. Grande azione subito del Venezia. El Cialawi. Bello. Il tocco sotto. Esposito. Mette giù. Esposito. Rajkovic. E poi Pululu. Tanto si schianta. Poi su nel palo. Ma così è. Pululu. 1 a 0. Rafinha. El Cialawi. Bernardeschi. Il tocco sotto. Pululu. Che azione. Mette giù. Pululu. Rajkovic. E poi di nuovo. Affimico. Pululu. Che azione. Che azione incredibile. Devo bere. Attenzione a Gabbiadini. Palo. Prima chance. Della Sampdoria. Tra l'altro a Pizzari. Hanno fatto i capelli un po' biondini platino. Non so se sia un riflesso del sole. O lui che si sia fatto i riflessi di colpi di sole. Vediamo. Caval. Pusio. Bernardeschi. Esposito. Deve aspettare. Ancora Bernardeschi. Però la finta. La doppia. Largo. Caval. Stoppa. Mancino. Che gol. Che gol. A chiudere questo primo tempo. Che primo tempo. Che squadra. Che squadra. Un applauso a questo Venezia. La finta. Bernadeschi. Doppio. Largo. Cowell. Boom. Così ci ringrazia Cowell per averlo tenuto. E non averlo mandato al Fulham. Ragazzi. Io farei i cambi. Farei i cambi. Farei i cambi e poi andrei al risultato onestamente. Metterei Jackson. Metterei Mbuku. E metterei i fagioli. Così. Cambi effettuati. Vai al risultato. 3 a 0. Resta così il risultato. Bene. Molto molto bene. Tra l'altro. Beh beh. Penso sia quello sbagliato. Bene. Nel senso che. Tra l'altro. Forse hanno risolto anche il bug. Che se facevi tre sostituzioni. Il gioco poi ne faceva un'altra in automatico. E quindi ne faceva quattro. Che poi non è proprio un bug. In realtà. Nel senso che. Nel gioco effettivo. Se ne possono fare cinque. Di sostituzioni. Spero che. Venga poi implementato. Il. Il prossimo anno. Ragazzi. Che bello. Che bello. La schermata. Della Champions. Della Europa League. La schermata europea. Signori. Signori. Ce l'abbiamo fatta. Siamo in Europa. E nel prossimo. Di episodio. Vedremo. Monaco. Poi simuleremo col Bologna. E giocheremo con Genoa. E Torino. Quindi. Debutto di Europa League. Nel prossimo episodio. In classifica. Attualmente. Penso. Siamo stati i primi. Siamo primi. 9 punti. A pari merito con. La Juventus. Quest'anno ragazzi. Puntiamo alla Champions League. Poco da dire. Puntiamo. Quanto meno. Diciamo al quinto posto. Sicuro. Però vorrei giocarmela tranquillamente. Per la Champions League. L'anno scorso. Potevamo giocarcela. Il gioco. E noi. Ci siamo messi un po'. I bastoni tra le ruote. Tra l'altro. Evian. 3 gol con la Z. Red. Il nostro vecchio giocatore. Ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Mi raccomando. Qui sotto nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate. Del calciomercato. Io sono super mega soddisfatto. Della squadra. E del gioco in generale. Ma anche con la nuova patch. Soprattutto del calciomercato. Mi è piaciuto. Secondo me. Anche abbastanza realistico. Noi ci vediamo alla prossima. Sempre qui sul mio canale. Mi raccomando. In live. Mi trovate sempre su Twitch. Il link qui sotto è in descrizione. In descrizione trovate anche il gruppo Telegram. Per essere sempre in contatto con noi. Alla prossima. Un bacione. Un salutone. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Ciao.